Ciao a tutti, i ragazzi stanno giocando a calcio nel campetto della parrocchia, è un amore vederli, è una gioia vederli. Stanno giocando insieme per fare gol e insieme fanno squadra. Io mi chiedo, riuscirò io oggi a fare gol davanti a te, signore? Tu sei il mio allenatore e io devo fare gol. Fare gol vuol dire oggi una giornata piacevolissima a te, piena di fede, piena di preghiera, piena di pazienza, piena di amore. E poi devo fare squadra. Non è facile fare squadra con tutti i miei fratelli che mi sono vicino, ma devo fare squadra se voglio fare gol per te. Aiutami, signore. Oggi voglio fare gol con te, insieme a te e insieme ai fratelli. Ciao a tutti, buona giornata.